Un saluto a tutti gli utenti di Asso Digitale. Dopo averlo visto nello specifico con alcuni focus dedicati, cliccando su Carletto potete vedere il focus relativo alla fotocamera, cliccando su Eve potete vedere il focus relativo ai videogiochi e cliccando su Mic potete vedere il focus relativo al sistema audio HTC BoomSound e al display. Oggi però ci occupiamo della recensione definitiva di questo smartphone HTC One Max. Partiamo subito con le caratteristiche tecniche. Allora, questo smartphone andrebbe chiamato phablet per via dell'enorme display da 5,9 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 600 di tipo quad core da 1,7 GHz. La RAM è di 2 GB, la memoria integrata è di 16 GB, espandibili tramite microSD. La versione di Android è Jelly Bean 4.3. Anche se ho già ricevuto un aggiornamento di sistema che se non era KitKat, probabilmente uno dei prossimi aggiornamenti sarà appunto KitKat. C'è Jelly Bean 4.3, però sappiamo che c'è l'interfaccia di HTC. In questo caso è la Sense 5.5, anche se prossimamente dovrà ricevere la nuova versione, la Sense 6, già rilasciata su appunto il nuovissimo HTC One M8. Tornando alle caratteristiche tecniche, abbiamo sul lato frontale una fotocamera da 2,1 megapixel con un obiettivo grandangolare da 88 gradi, l'ideale per i selfie, capace quindi di registrare video in Full HD. Sul lato posteriore abbiamo una fotocamera HTC Ultra Pixel, analogo a quella installata già su HTC One M7, LED Flash, sensore di impronte. Questo viene utilizzato per sbloccare il terminale. Poi, sul lato frontale abbiamo, come detto prima, o comunque come detto nel focus dedicato, due altoparlanti, quindi abbiamo un suono stereo, il cosiddetto sistema HTC BoomSound, con amplificatori integrati. E in uno di questi forellini dove esce l'audio abbiamo il LED di notifica. Adesso attacco il caricabatterie per farvelo vedere. Ecco, questo LED di colore arancione rossiccio è il LED di notifica. Ok, tornando alle caratteristiche tecniche, connettività 3G fino a 42 Mbps in download, anche se comunque è uno smartphone di tipo LTE, quindi possiede anche questo tipo di connettività. La batteria è da 3300 mAh. Cosa manca da dire? Vediamo, la fotocamera l'abbiamo detta, il sistema audio pure, il prezzo. Il prezzo è di circa 450-500€. Prima di fare il video, ho controllato su Amazon, indicavo un prezzo di 478€. Altra cosa importante, magari vi starete chiedendo il peso di questo terminale, vista la dimensione. Risolviamo subito con la bilancina, vediamo quanto pesa. Sono 219 grammi. All'inizio può anche essere fastidioso abituarsi a tenere in mano questo terminale, si può avere qualche difficoltà, però successivamente, almeno nel mio caso, il piacere di avere un display così grande penso che abbia avuto la meglio sul peso, forse un po' eccessivo di questo smartphone. Dipende comunque da cosa una persona cerca da un telefono. In questo caso, utilizzare uno smartphone con un display da 5,9 pollici e poi tornare a utilizzare questo Nexus, che è un Nexus 4, è come passare da una TV al plasma a un giocattolino. Sembra quasi avere qualcosa di plasticoso in mano. Allora, per quanto riguarda il materiale, abbiamo questa cover posteriore in alluminio, su tutta la cornice c'è questa plastica bianca. Già che ci siamo, allora, sul lato destro abbiamo bilanciere del volume, tasto di accensione e spegnimento, lato superiore jack 3,5 pollici per le cuffie, quindi auricolari, e questa che è una porta infrarossi. Perché? Perché c'è l'applicazione TV che permette di controllare tutti i nostri dispositivi, che sia l'impianto home theater, oppure la televisione, il decoder, tutto tramite lo smartphone HTC. E' inclusa anche in questa applicazione una guida TV, quindi molto utile per sapere la programmazione in onda. Sul lato frontale abbiamo detto la fotocamera, i sensori di luminosità, il sistema audio HTC Boom Sound, qui abbiamo i due pulsanti soft touch, home e indietro. Sul lato sinistro abbiamo soltanto questo pulsante, che serve a sganciare la cover. sul lato inferiore porta micro USB e microfono. E questo forellino sul lato posteriore dovrebbe essere un microfono per la riduzione del rumore. Qui invece abbiamo detto la fotocamera e il sensore di impronte. Vi faccio vedere subito come funziona il sensore di impronte. Adesso il telefono è bloccato, io striscio il dito dietro e si è sbloccato. Questo sensore forse non è molto comodo, perché nella maggior parte dei casi, quando ci si trova in movimento, magari si affretta, non si riesce a fare il perfetto movimento come il telefono vorrebbe. Quindi molto spesso non riesce a riconoscere, vediamo adesso una seconda strisciata, esatto, impronte digitale non riconosciuta. Se uno magari va velocemente, bisogna arrivare al secondo, al terzo tentativo, prima di riuscire a sbloccare il telefono. Fortunatamente si può impostare fino a tre dita, per si possa registrare tre dita, indice medio e l'altro indice, quindi di due mani diverse. Oltre a questo si può anche impostare una password, in questo caso proviamo subito. Se si hanno problemi con le impronte, si clicca qui e chiede la password di emergenza. Adesso risblocchiamo con le impronte. Ok. Allora, per quanto riguarda i materiali, mi sembra molto solido. Molto solido, la cover in alluminio sul retro, forse diminuisce un pochino il grip, ma neanche più di tanto. Essendo un telefono molto grande, è difficile che... difficile comunque perdere la presa. Posso dire che forse andando a scrivere messaggi, o comunque in qualsiasi momento di scrittura, quando utilizziamo la tastiera, si ha qualche problemino, perché bisogna utilizzare per forza le due mani, o comunque io non riesco ad andare da un lato all'altro per coprire tutte quante le lettere della tastiera. Per quanto riguarda la tastiera di HTC, posso dire che... posso dire che l'ho subito sostituita con SwiftK, perché non mi piaceva particolarmente, però adesso questa è SwiftK, vi faccio vedere quella di HTC, cioè, essendo abituato alla tastiera standard di Android, ve la faccio vedere qui sul Nexus, eccola, essendo abituato a questo tipo standard di tastiera, quella di HTC mi risultava un pochino, un pochino difficile da usare, cioè dovevo abituarmi a determinate cose che non mi piacevano, per questo motivo ho deciso di installare quella Swift. Anche per il sistema di correzione automatica, il dizionario, comunque è una questione di preferenze. Allora, per quanto riguarda il display, molto sensibile, già detto nel focus dedicato, che è molto luminoso, Allora, adesso abbiamo la luminosità circa a metà, apriamo proprio il livello per mostrare il grado di luminosità, così al minimo, io di solito la tengo a due tacche, ecco, di solito la tengo così. Va bene, in ambienti interni, magari quando siamo all'esterno, ho bisogno di mettere la terza tacca, altrimenti sotto al sole non riesco ad utilizzare bene lo smartphone. Per quanto riguarda, appunto, dato che stiamo parlando di esterno, il GPS funziona benissimo, l'ho provato tantissimo durante questi giorni, non ha dato alcun tipo di problema. Ok, tornando al telefono, allora, nella fotocamera, ripeto, non ha dato grossi problemi, salvo qualche problema di rumore durante le foto in notturna, però vi linko, cioè comunque vi rimando al focus dedicato. Cos'altro possiamo dire di questo smartphone? Allora, il sistema audio è fenomenale, anche questo lo potete vedere nel focus. Allora, facciamo le prove di rito. Facciamo una chiamata al 133. Allora, l'audio è buono sia nella capsula auricolare, sia, come avete potuto sentire, in viva voce. Scrittore sms, vi dicevo prima che preferisco la tastiera, preferisco delle tastiere alternative, però vediamo comunque come si comporta con la tastiera stock di serie HTC. Ciao. Ecco già, per esempio, lo spazio, ma forse è una questione d'abitudine. Probabilmente, essendo che qui ci sono questi quattro pulsanti, che nella tastiera normale non ci sono, quando vado a premere lo spazio, non premo la barra, ma vado eccessivamente in fondo, e quindi non premo lo spazio, magari non mi prende lo spazio, e quindi questa è stata una delle cose che almeno inizialmente mi ha portato a cambiare tastiera. Quindi, non mi trovo molto bene con questa tastiera. Ripeto, possiamo provare e fare lo stesso testo con questa. Vabbè, a sto digitale lo conosceva perché l'aveva insegnato nel dizionario, comunque, molto più veloce. Ripeto, sono delle scelte, uno può mantenere la tastiera che vuole. In ogni caso, il display è sensibile, abbiamo un ritorno, un feedback di vibrazione per ogni appunto lettera che premiamo. ovviamente si può disattivare, comunque non è eccessivo, anzi è molto utile. Allora, proviamo la navigazione web, che è uno dei punti forti di questo smartphone. Allora, vediamo. Il browser di HTC è senz'altro uno dei migliori, secondo me, in circolazione. è molto veloce nel caricare i contenuti, ma allo stesso tempo nel, come dire, nel fare il rendering delle pagine e soprattutto nel disporre i contenuti come vogliamo noi. Adesso probabilmente passerà alla versione mobile, vediamo se... No, rimane alla versione desktop. No, è passata alla versione mobile. Richiediamo alla versione desktop, vediamo se... Tra l'altro, avendo ancora Android 4.3, c'è già l'opzione di flash player in questo browser, quindi non dovremo utilizzare Maxton per la nostra prova con YouTube. Niente, asso digitale, passa comunque in modalità mobile, apriamo Repubblica, allora. Anche questo, modalità mobile, andiamo a desktop. Quindi, assolutamente molto veloce. Guardate la fluidità e non ha ancora finito il caricamento. In questo caso siamo in 3G. poi se io faccio un doppio tap Zoom Una cosa che fanno questi HTC è sistemare il testo a seconda del livello di Zoom. Una cosa che a mio parere è davvero ottima. Quindi, il browser, secondo me, è assolutamente promosso. Proviamo con YouTube. Vediamo come va il flash player. Anche se vi posso già dire che ho visto almeno un'ora, due ore di fila di programmazione che sfruttava il flash player su alcuni siti di streaming della televisione. Quindi ho visto a tutto schermo la tv in streaming non ha dato alcun tipo di problema. Quindi il flash player è assolutamente integrato. La cosa dispiace perché con KitKat probabilmente verrà rimorso e verrà rimosso, quindi però per adesso vediamo se ci carica il filmato. è attivo sì, dovrebbe essere attivo. Adesso l'ho disattivato? No. No, adesso l'ho attivo. Dovrebbe funzionare poi. ok. Propongo un breve, sì. A questa zampa è piena insieme. A noi. Ti amo. quindi come potete vedere nonostante io lo stia stressando con dello zoom mentre stai seguendo il video qua un altro contenuto in flash modalità tutto schermo dovrebbe ingrandire vediamo no strano o forse ho scelto la modalità del player questo non l'avevo provato con gli altri player non ha dato problemi ah forse perché ho la rotazione disabilitata vediamo io di solito la tengo disabilitata perché mi dà fastidio avere il telefono che impazzisce ricarichiamo la pagina vediamo un poco è un po' una fissazione mia questa del flash player però mi sembra una prova interessante da fare sia per vedere le prestazioni dello smartphone vediamo adesso lo schermo intero ce la facciamo? propongo un brand a questa zampa l'entrima insieme a noi no rimane piccolo non so perché è un po' strana come cosa mi stavo dimenticando però se io lo ruoto così e lo passo così a schermo intero vediamo esatto adesso funziona perfetto quindi anche la prova del flash player è superata allora tornando ad HTC Sense una funzione interessante è il blink feed che ci permette di riunire diversi contenuti facebook twitter instagram vedete io ho collegato di tutto forse in questo caso è molto più consigliato tenere queste applicazioni separate dal blink feed perché altrimenti abbiamo la home in bassa di contenuti magari indesiderati ecco magari delle fanpage che seguiamo su facebook comunque blink feed riunisce tutte le news che vengono pubblicate appunto dalle testate che noi scegliamo di aggiungere è davvero molto interessante magari uno vuole leggere in vuole leggere appunto alcune informazioni oppure le ultime notizie magari mentre si trova su un mezzo pubblico senza dover andare a utilizzare altre applicazioni c'è blink feed che funziona benissimo e ci permette anche di scaricare gli articoli e leggere in modalità offline allora fotocamera l'abbiamo detto nel focus lo speaker pure prova web ci siamo l'abbiamo fatta videogiochi li abbiamo visti nel focus allora cosa posso dire io sono molto soddisfatto di questo smartphone sarà anche molto difficile separarmi dato che adesso appunto mi sono abituato ad avere uno schermo così grande qualsiasi tipo di contenuto da per esempio twitter visto su un display di queste dimensioni è molto è qualcosa che lascia appunto che lascia bocca aperta anche la stessa navigazione web andiamo a leggere una notizia un sito internet non so anche facebook su questo su questo display è assolutamente un'altra cosa la batteria la batteria devo dire che riesce a coprire benissimo la giornata lavorativa non abbiamo bisogno di un caricabatterie durante la giornata perché magari questo display va ad assorbire troppa batteria quindi è stato fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione dei consumi in questo caso è 64% vediamo cronologia in carica c'è questa piccola tacca che è dovuta forse al momento in cui ho attaccato per farvi vedere il led di notifica quindi la batteria dura tantissimo a 3300 mAh si sentono tutti nonostante si stresse il telefono perché l'ho stressato tantissimo io faccio un uso davvero smoderato di youtube sia in 3G che in wifi quindi già questo va a intaccare molto la batteria però non ci sono stati problemi anche la musica per esempio visto appunto il sistema audio mi è capitato molto spesso di utilizzare spotify direttamente con questo telefono e devo dire che comunque la batteria è sempre retto non mi è mai capitato di doverlo attaccare la sera perché appunto si stava scaricando ecco cioè si arriva tranquillamente a fine serata con quel 20% di batteria che ti permette appunto di raggiungere casa e poi di attaccarlo al caricabatterie quando ho ricevuto questo telefono avevo alcuni pregiudizi i miei pregiudizi erano nei confronti di HTC ho avuto un HTC in passato tra l'altro è stato il mio primo smartphone Android questo l'HTC Magic HTC G2 ha avuto appunto diversi nomi a seconda dei vari mercati questo non aveva l'HTC Sense anche se all'epoca qualcuno prova a fare degli esperimenti nel cercare di trasferire la Sense che c'era in altri terminali su questo HTC quindi all'epoca ho avuto modo di provare le vecchie versioni di Sense anche su questo Magic All'epoca pensavo che la Sense fosse un qualcosa di invasivo che andava appunto a stravolgere interamente quello che era appunto il terminale quella che era l'esperienza Android adesso però vedendo questa Sense 5.5 comunque ho avuto modo di vedere la 6 alla presentazione di HTC One M8 mi sono dovuto ricredere la trovo molto utile non è invasiva appunto è utile in tante piccole cose ad esempio qui nel menu abbiamo il meteo in alto abbiamo appunto l'orario il giorno la temperatura possiamo ordinare le icone qui abbiamo per esempio una piccola icona del market la funzione di ricerca o anche per esempio la barra notifiche che anche quella di Android o comunque di Android Stock ha questo pulsante per switchare tra notifiche e i pulsanti di quick settings però questi per esempio sono personalizzati c'è qualche appunto pulsante in più qui per esempio invece possiamo scegliere quali mettere quindi è un qualcosa che non abbiamo in tutte le versioni di Android per passare poi che ne so a BlinkFeed anche BlinkFeed è molto utile non è molto non è molto invasiva come magari lo era lo era un tempo cioè la trovo assolutamente integrata in Android non va a stravolgere tanto quella che è l'esperienza Android ma anzi appunto la migliora quindi secondo me è promossa da questo punto di vista per quanto riguarda il telefono assolutamente soddisfatto se vi spaventa il peso vi invito a provarlo in qualche negozio prima di prima di acquistarlo se non siete certi che possa essere lo smartphone giusto per voi certo magari viste le dimensioni sarete costretti a utilizzarlo con due mani io appunto ripeto venendo da nel corso del tempo sono passato da questo smartphone quindi un display molto piccolo si utilizzava con una mano poi Nexus S e adesso questo che è il Nexus 4 continuo a utilizzarlo con una mano senza problemi però se con questo voglio scrivere un messaggio vi faccio vedere subito se voglio scrivere un messaggio per esempio arrivo proprio con il dito completamente disteso a premere la P quindi dovrei quasi spostare cioè all'interno della mia mano dovrei fare questo movimento col telefono per riuscire a utilizzarlo con una mano se voglio premere la P però si rischia appunto di farlo cadere quindi quando devo scrivere qualcosa lo utilizzo con due mani quando invece non lo so devo vedere una notifica o comunque non lo so aprire un messaggio di Whatsapp ritiro il telefono dalla tasca con una sola mano e continuo a utilizzarlo con una sola mano e ripeto è una questione di abitudini ci si può abituare questa era la recensione dell'HTC OneMax un saluto da Giuseppe Ferro per AstroDigitale.it di Grazie a tutti.